salve cari amici tuttubi sono francesco bentornati nella soffitta di camera mio benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla quest'oggi torno a parlarvi di luxastra la campagna di gioco di ruolo che si trova sul canale di intel giunto al sesto episodio della set della seconda stagione sesto episodio ma probabilmente quando voi vedrete questo video sarà martedì quindi saremo già in procinto di vedere il settimo episodio che andrà in occasionalmente di martedì questo perché questo giovedì giovedì 31 a lucca sarà proiettato l'ottavo episodio in anteprima di una settimana e quindi spero di riuscire a godermi proprio in quel di lucca perché faccio questo video adesso dopo aver abbandonato i miei video sulla serie al primo principalmente per due motivi ho finalmente avuto modo di regolarmi un attimo e quindi di potervene parlare forse con un pochettino più di calma cosa importante ci sarà lucca quindi dopo lucca ci saranno tante novità che usciranno lucca che comprerò la lucca e quindi voglio parlarvene con calma dopo che sarà uscita lucca quindi dopo lucca sarebbe stato davvero tosto ma soprattutto lucca uscirà il fumetto di luxastra quindi di conseguenza volendovi parlare anche di quello non sapendo se ci saranno riferimenti alle cose che si sono viste negli episodi voglio un attimino poterne parlare con voi prima dell'uscita del fumetto stesso quindi farò un attimo dirò le mie opinioni i miei pensieri su gli episodi dal 2 al 6 che è uscito giusto l'altro ieri e che quindi un attimino andiamo a parlarne di tutta quel popò di roba per il quale sono rimasto indietro si tratta ovviamente di opinioni strettamente personali sono le mie opinioni non sono un giocatore di ruolo non sono uno che fa recensioni di mestiere sono uno a cui piace parlare discutere delle cose che gli piacciono fondamentalmente trovare magari conversazione in dialogo con altre persone altri appassionati e in questo caso qui dire la mia può essere comunque utile anche eventualmente agli intelers per ciò che fanno di mestiere per capire un attimino anche i gusti soggetti come va cosa come non va ricordo di essere stato piuttosto critico con il primo episodio l'avevo detto però all'interno della della video opinione era un episodio dal quale avevo forti tantissime aspettative tantissime speranze e l'episodio si era rivelato molto potente all'inizio quanto piuttosto lento e non debole però non particolarmente esaltante avvicente nella parte successiva al punto che l'avevo messo nel video stesso mi era un pochettino annoiato per quanto ci fossero stesse tante cose e tante cose erano anche molto interessanti il secondo episodio quindi ricomincia nello stesso mood tante piccole scene quella molto intensa molto delicata di dahlia con gli orfanelli nella nell'orfanotrofio anche va in giro a cercare informazioni a cercare il vischio per le bacche quant'altro l'indagine di shiran galgit rendar e leto con tutte le gag che ci sono state tutto molto non posso dire avvincente però quella prima parte lì l'avevo seguita piuttosto bene molto meglio della parte prima per quanto fosse la stessa identica sessione però ci stava ok non avevo quelle alte aspettative probabilmente dell'episodio precedente e poi effettivamente dalla seconda parte dell'episodio quell'episodio lì ha una svolta e un'impennata per me altissima questo perché perché molto probabilmente la cosa che ho mi sto accorgendo andando avanti nel corso della serie seguo la serie principalmente per le relazioni tra i personaggi vederli interagire proprio loro sei con le loro personalità in situazioni in cui il master stesso che li mette effettivamente in difficoltà in modo da poter parlare di qualche cosa in particolare cercare di scoprire qualcosa di più su di loro è quello che mi intriga maggiormente della serie e quindi nel momento in cui si sono messi ad un tavolo hanno cominciato a ragionare e a pensare su cosa sapevano cosa non sapevano la cosa si è fatta molto avvicente molto interessante così come è stato dannatamente d'effetto dannatamente interessante la scena clou la scena madre dell'episodio 2 quelle finale con render e ok che magari la scena clou quella che tutti ricordano è stata fatta in post produzione in un secondo momento con tutta quella tutta quel bel confessionale tutto quanto bello orchestrato però era il concept stesso l'idea stessa che fosse successa a quella cosa a gasarmi tantissimo e a dare in alcuni punti manforte a quella che era un mio vecchio video il video di quest'estate dove cercavo di comprendere quali potessero essere i passati dei protagonisti alcune cose di render tutto sommato sono assimilabili a quello che avevo detto molte no però sono contento di aver fatto quel video quella volta e sono contento di essere stato smentito sotto molteplici punti di vista perché ci sarà modo e tempo eventualmente di poter fare qualcosa di analogo terminata questa seconda stagione perché comunque di informazioni ce ne stanno dando e sono belle belle succose e niente rendere stato secondo me il miglior giocatore di questa seconda puntata molto per questa scena effettivamente molto di impatto per la decisione che ha fatto per le decisioni che ha preso per l'impatto che ha avuto tutto tutto quanto e quindi il secondo episodio mi è sì piaciuto e non riesco a trovarci effettivamente troppi difetti era un episodio molto equilibrato un inizio magari non particolarmente frizzante ma comunque interessante una parte centrale un pochettino più distesa e poi una parte centrale finale dove ci si concentrava molto su cose anche molto personali il terzo episodio invece ha un andamento che non mi ha convinto del tutto l'incipit è stato fotonico quasi più fotonico nell'incipit del primo episodio con questo sguardo futuro ad un futuro che però è plausibile ed è plausibile a mio parere perché quella che abbiamo visto non è solo un futuro possibile ma è il futuro che i nostri giocatori avrebbero effettivamente vissuto per come erano andate le cose nella cosiddetta stagione perduta di intail quegli episodi che si sono persi perché l'audio era stato corrotto e quindi hanno deciso di cancellare tutto e riprendere da dove l'audio si era effettivamente corrotto rigirando tutto quanto per poi effettivamente rigiocare tutta quanta la partita facendo anche scelte levemente diverse anche grazie a Matt che probabilmente ha cercato di rimischiare alcune carte in tavola per non far sembrare tutto già visto ai nostri player effettivamente quella scena lì a me è piaciuta tanto c'era tanta tensione c'era tanto mistero c'è e soprattutto c'erano un'evoluzione dei nostri personaggi non erano più loro per come li stiamo conoscendo adesso erano qualcosa di diverso qualcosa di futuro questo è sicuro ma effettivamente non tutto quello che è andato perduto è andato effettivamente perduto quindi Matt può essersi fortemente focalizzato e basato su ciò che si era già giocato per creare quella linea narrativa e quel futuro narrativo creando nei fatti un multiverso e lo so che io la sto menando con l'idea del multiverso da tantissimo tempo lo so che nel video opinioni parlando di Anne avevo cercato di minare effettivamente la possibilità che ci potesse essere un multiverso narrativo cercando una giustificazione e un senso a quello che stava succedendo e del background di Anne pur senza passare per passando per il multiverso però l'avevo detto nel video nel video l'avevo detto mi piacerebbe pensare che si stia parlando di multiverso tantissime potenzialità narrative ma di difficile gestione di conseguenza ciò effettivamente man mano che stanno succedendo cose ma soprattutto queste visioni che shiran e renderanno a mio parere sono un piano del multiverso alternativo dove per l'appunto i nostri sono stati hanno vissuto hanno fatto cose e adesso stanno vedendo le conseguenze delle loro azioni davvero molto molto bello questo incipite del terzo episodio così come in realtà mi è sì piaciuto perché è stato molto divertente tutto quello che c'è stato subito dopo però troppo tirato per le lunghe c'è stata davvero una lunga parte di questa sessione dedicata a cercare di allentare l'attenzione di fare delle gag qualcosa di un pochettino più comico situazioni paradossali che per quanto divertenti sono andate effettivamente a togliermi quello che volevo vedere realmente che è un gusto magari mio personale che l'ho detto mi sono divertito però effettivamente c'era quel momento in cui rendare voleva parlare con shiran si volevano parlare volevano discutere torno loro è successo la qualunque ma in maniera cacciarona confusionaria di quasi creato tavolino per creare scene divertenti troppo secondo me un pochettino troppo non posso dire di non essermi divertito ma l'ho trovato un po' fuori fuori contesto non posso dire fuori luogo perché più o meno ci poteva stare però con anche lì alcuni indizi interessanti come l'ombelico di Leto oltre alla sua dotazione militare però erano cose buttate lì che giustamente i nostri hanno colto ma hanno fatto finta di non cogliere perché sarebbe stata una forzatura narrativa e poi la parte più bella degli episodi che ho visto finora tutta quella lunga conversazione tra i nostri sei personaggi e con la loro capacità interpretativa messa in gioco ma che cosa avete fatto? cioè io ero teso quando Leto e quando Galgit e Rendar si urlavano tra di loro ero non sapevo come reagire alla povera Sara la Sheeran che diamine era in lacrime era visibilmente preoccupata era visibilmente tesa anche Anne che pure stava facendo il cazzone giocando a carte ci sono stati dei momenti nel quale era totalmente immerso sia Simone che Anne giustamente all'interno di questa conversazione e anche Leto quando ha cercato di rasserenare qualcosa mettendoci del suo cercando di placare un po' cercare una soluzione e anche il silenzio di il silenzio di di Dalia di di Giulia era un silenzio che era comunque in character era il silenzio di chi è presa dalla cosa ma non sa come agire sono stati 20-25 minuti che mi hanno tenuto col fiato sospeso perché non sapevo che cosa sarebbe successo sappiamo che questa terza sessione questo terzo episodio era un'intera sessione di gioco condensato effettivamente in uno degli episodi più corti di questa seconda stagione se non il più corto però effettivamente c'è da notare semplicemente una cosa che è fortemente logica in realtà conversazioni del genere hanno sicuramente delle ripercussioni ma fatte dal vivo ok il tempo trascorre effettivamente e magari c'è bisogno di un po' di tempo per trovare delle possibili soluzioni stessa cosa all'interno del gioco ci sono stati sicuramente delle conversazioni delle linee di dialogo delle battute che si sono fatti tra di loro non battute divertenti degli scambi di battute dove magari si sono di fatto arenati in un nulla perché era abbastanza facile arenarsi in quel contesto lì e dover poi trovare un modo di sbrogliarsi per andare a ricreare comunque una conversazione che avesse senso con quanto sarebbe detto fino a quel momento ma che potesse portare da qualche parte ok mi immagino quanto sia stato tagliato perché erano linee di dialogo senza più un senso o senza un reale interesse probabilmente vederla per intero quella sessione in alcuni punti poteva essere anche abbastanza per quanto teso a vederla era dei momenti di silenzio per cercare di capire come sbrogliarsi da soli quindi ok è stato fatto un lavorone cioè non conoscendo effettivamente quanto sia durata quella sessione nello specifico non sapendo quanto sia stato tagliato è una cosa che posso sospettare per come ci è arrivata a noi e comunque se i tagli che sono stati fatti se effettivamente come la sto pensando come la sto dicendo io è stato fatto un lavoro incredibile per coinvolgere senza perdere troppi dettagli non credo che si sia perso molto voglio sperarlo perlomeno i punti focali ci sono i punti di interesse ci sono si sono tagliati magari tutti quei momenti morti e perché vi dico che ci sono stati dei momenti possibilmente morti perché ho scribacchiato qualche cosina in passato e spesso cercavo di non so quando mi bloccavo perché boh non sapevo bene cosa fare cercavo di far dialogare dei personaggi tra di loro e insieme discutendo i due personaggi poteva succedere qualcosa e spesso erano dialoghi lunghi interi che non arrivavano nessuna soluzione tagliavo tutto e tornavo indietro io stesso quindi posso solamente immaginarmi se effettivamente ci fossero stati solamente Rendar e Galgit che si dibattevano per qualcosa che fosse giusto per cui si stessero dibattendo ma a un certo punto arrivavano a scontrarsi senza andare da nessuna parte e anche gli altri senza sapere come muoversi quindi è una cosa che posso capire e voglio vedere effettivamente mi è piaciuta come è stata resa poi scenicamente con un finale che proprio fiatto sospeso diamine sarebbe bello quel finale ma come vi dicevo tutti quanti i personaggi mi sono piaciuti tutti quanti sono riusciti a rendere effettivamente quello che il loro personaggio stava provando e poi arriviamo al quarto episodio il quarto episodio che ha una thumbnail è un titolo effettivamente molto parlanti su questo sono perfettamente d'accordo con ventifacce per quanto il titolo mi ci poteva stare la thumbnail ci dice forse troppe cose però effettivamente non si poteva non passare per quel punto nello specifico magari non era questo episodio era il prossimo però è uno di quegli episodi che ha una prima parte dove c'è della preparazione dove scopriamo qualcosina di più sugli NPC guidati da Matt su tuono l'urco su Sir Lucius sul goblin tarlo e finalmente abbiamo un po' di chiarimenti per quanto riguarda il personaggio particolare che è il re corvo e qui faccio delle puntualizzazioni perché c'è qualcosa che non mi torna e cos'è che non mi torna quando ho fatto il video quelle delle origini dei personaggi di Luxastra avevo inteso per come c'era stato mostrato finora il mondo che c'erano un po' di fazioni in ballo e ne avevo individuate tre gli elfi delle macerie gli elfi comunque in generale l'indaco e la chiesa individuando che molto probabilmente in questa parte della campagna avremmo avuto gli elfi come nemici poi avremmo avuto probabilmente un qualcosa legato alla chiesa e infine avremmo avuto l'indaco capitanato da re corvo non ricordo se l'avevo detto con queste parole comunque la mia idea era più o meno questa perché mi ero focalizzato su indaco e re corvo mettendoli e collegandoli insieme banalmente perché all'interno delle battute stesse che venivano fatte nel corso della prima stagione re corvo era indicato con diversi attributi sovrano penuto re corvo occhi di indaco mentre qui ci viene effettivamente svelato qualcosina di più su questo per quanto è molto molto ancora aleatorio qualcosa però quello che possiamo vedere è che re corvo non ha gli occhi colorindaco mi sono perso qualcosa cioè effettivamente devo a questo punto devo effettivamente pensare che c'è stato qualcosa di strano qualche misunderstanding magari da parte mia e vi dirò effettivamente non mi dispiacerebbe anche rivedere i primi episodi alla luce della una volta conclusa questa seconda stagione per rivedere alcuni punti per vedere se effettivamente tutto torna immagino di sì perché se è stato fatto il lavoro di costruzione del mondo come mi aspetto che abbia fatto Matt per come effettivamente ce lo racconta è molto probabile che tutto alla fine torni però in questo momento mi ha lasciato un pochettino perplesso questa cosa come se effettivamente ci fosse un errore da qualche parte e ancora ancora posso comprendere il mio pensiero che lui fosse legato al color verde quindi la pietra fosse sua la pietra dell'invidia che si trova nella chiesa mentre invece la pietra probabilmente si riferisce a qualcun altro ma tutto questo ci indica semplicemente una cosa che Matt sta giocando con i colori non sappiamo quali sono le sue intenzioni quali sono i suoi interessi ovviamente si crea dello show si crea del mistero ma su questa cosa dei colori Matt ci sta giostrando un po' troppo su questo cosa voglio dire che effettivamente mentre io cercavo di associare un colore a un personaggio e quel personaggio a un qualcosa ad un attributo probabilmente le cose sono più complicate di così e ancora non abbiamo la giusta chiave interpretativa per poter effettivamente fare i giusti connubi come avevo in realtà non l'avevo ipotizzato nel video delle origini però era per quello che volevo nel primo video delle origini vi dicevo che volevo cercare di comprendere meglio la razza e quindi studiarmi un pochettino meglio quanto era stato detto per cercare delle correlazioni tra varie cose mi sembrava già abbastanza evidente nel corso della prima stagione in questa seconda ne abbiamo la netta conferma che Re Corvo e i suoi sei fratelli le altre sei divinità sono in qualche modo connesse ai nostri sei eroi mi sarebbe piaciuto cercare di capire quali e come e mi piacerebbe in realtà a questo punto quali e come si intuisce in un attimo una geolocalizzazione mi piacerebbe però capire che cose dovrebbero rappresentare e perché e perché i nostri eroi dovrebbero essere gli esponenti di quelle divinità comunque tutto molto teatrale tutto molto bello anche questo quarto episodio con diverse rivelazioni che mi hanno davvero colpito stessa cosa posso dire dell'episodio successivo l'episodio quinto che comincia molto bene nello stesso location dove si era concluso quello precedente quindi dove si è incontrato Re Corvo con tanti bei dialoghi tanti bei momenti in particolare per quanto riguarda Galgit e delle rivelazioni sul suo background tutta la parte in cui i nostri preparano un piano per poter aiutare Rendar con la chiesa tutto molto molto bello e poi questo quinto episodio allora molto bella tutta la parte legata ad Alia spettacolare fotonica bella scenografica scenica d'impatto perfetta io mi sono ne volevo ancora volevo altri elementi altri dialogo altra discussione per avere altri elementi per avere e poter fare eventuali teorie questo è indubbio ma tutta la parte di Rendar mi è sembrata boh come se c'è stata tutta una preparazione alle spalle nel corso dell'episodio che quando si è arrivato poi effettivamente a fare quel che Rendar doveva fare si è risolto tutto un po' troppo in maniera semplicistica un po' troppo anche perché ci si era preparati davvero tanto come se l'incontro che Rendar dovesse fare dovesse essere davvero più di impatto di quanto poi non si è effettivamente stato e la delusione non è stata tanto che c'è stata la preparazione e che Rendar non ha fatto nulla per di fatto per evitare qualcosa tutto si è svolto in una maniera così semplice così liscia così tranquilla che mi dico boh serviva ok si si è inserito qualche elemento qualcosa che ci mostra come effettivamente la passione della chiesa si stia agendo e voglia avere delle informazioni però speravo in qualcosa di più di quello che poi effettivamente c'è stato sotto questo aspetto anche in vista di tutto quello che è stato preparato suppongo che tornerà un'utile più avanti però per il momento è un boh cioè preferivo un altro tipo di finale per questa sessione per questo episodio stessa cosa posso dire di tutta la sequenza legata al pennello di Anne un pennello piuttosto importante tra l'altro e dell'incontro con l'arcanista questo perché boh ci sono state buttate giù molte informazioni però la scena di per sé è stata anche non dico lunga perché non è stata 20 minuti però l'ho avvertita pesante questo perché i nostri sono andati come a fare voglio dire in tutti non sono uno che ha mai giocato di ruolo quindi mi immagino che le cose possano andare effettivamente più o meno come sono andate in Luxastra in tutti i videogiochi di ruolo che ho fatto quando mi serviva dell'inventare qualcosa andavo dal mercante di riferimento acquistavo quello che mi serviva e andavo via qui effettivamente c'è stata tutta la conversazione tra le parti però mi è sembrata quasi più una perdita di tempo importante perché i nostri hanno acquisito o meglio hanno degli strumenti col quale acquisire informazioni però crearci tutta questa scena attorno mi ha rallentato un pochettino le cose l'episodio di per sé era anche particolarmente lungo quindi forse è anche per quello che mi è sembrata un po' un momento morto sia questo che la parte con Rendar quindi è un po' l'ago della bilancia fondamentalmente l'episodio era lungo ci sono state un paio di scene un pochettino lente nel finale una di seguito all'altra che avranno dell'impatto sicuro nel futuro però per ora bisogna vedere come andranno avanti ecco non posso dire essere state parti brutte però mi è mancato qualcosa non lo so non mi hanno convinto al 100% e veniamo adesso all'ultimo episodio uscito cioè il sesto che è uscito l'altro giorno dove finalmente i nostri vanno nel bosco di Greggia e dove i nostri effettivamente fanno uno scontro con degli avversari non ho molto da dire in realtà un episodio che considerando il fatto che lo riguarderò lunedì sera l'ho seguito un pochettino distrattamente questo perché la prima parte in realtà l'ho seguita anche abbastanza con i nostri viaggi le conversazioni un paio di cose le ho colte quando è cominciato il combattimento l'ho seguito in maniera un pochettino più distratta mentre facevo anche altro conscio del fatto che l'episodio l'avrei rivisto nei fatti lunedì ieri sera rispetto a quando voi guardate questo video presumo faccio mea colpa effettivamente non dovrei trattarlo così in tale ero curioso probabilmente l'avrei seguito con più interesse però effettivamente lo scontro per quanto sia stato abbastanza reso bene in maniera anche piuttosto dinamica con le statuine tutto lo scenario creato con i modellini i vari nostri protagonisti che ci dicevano effettivamente cosa stavano facendo ammetto candidamente che mi pare tutto sommato la parte meno interessante del progetto in sé questo perché per quanto può essere avvincenti l'idea di un combattimento un combattimento fatto a turni in questo modo in dnd se lo si vive magari ha ancora molto senso a vederlo da un'altra parte al di là dei colpi di fortuna dei colpi di sfortuna degli avversari bravi dell'intelligenza di E mi è sembrato buono valido ma non così avvincente proprio perché il modo di raccontare gli scontri è un faccio un azione faccio un tot di azione poi tocca un altro fa il suo tot di azione tocca un altro fa le sue azioni tocca un altro che è un po' secondo me il limite di un gioco di ruolo di questo tipo non avendo avendo sempre giocato a videogiochi di ruolo dove sì magari c'era l'idea del turno ma sembrava tutto un pochettino più in tempo reale avevo meno questa sensazione qui o di tutto ero io che giocavo quindi ero io che magari mi emozionavo ero preso dalla frenesia di quel combattimento magari della complessità dovendo fare delle scelte tattiche logiche e quindi da decidere cosa fare e quindi di conseguenza avevo un altro tipo di impatto rispetto a vedere uno giocare secondo me questo qui è molto più limitante delle scene che mi hanno appassionato di meno nel corso di questa stagione finora vista perché un paio di momenti che un pochettino più noiosi un pochettino più lenti ci sono stati per quanto piacevoli per quanto interpretati bene e li ho detti tutti nel corso di questa video opinione per quanto per quanto abbia cercato di condensare più elementi possibili la seconda stagione mi sta piacendo ma con delle riserve intendiamoci ho prenotato il fumetto non vedo l'ora di andarlo a ritirare spero di incontrare tutto il cast per avere le firme da tutti quanti so che nello Stanley Games ci sarà del merchandising probabilmente una maglietta col nuovo logo la prenderò se c'è qualcosa di interessante potrei prendere anche qualcos'altro è un format che mi sta piacendo che mi sta appassionando a me che conosco il GDR solamente tramite videogiochi di ruolo ok quindi è un progetto che mi sta piacendo e mi sta appassionando perché c'è un background e una storia dietro che mi sta prendendo quindi sono felicissimo di starlo vedendo sono felicissimo di supportare questo progetto nel mio piccolo e sono felicissimo di poter incontrare e dialogare con loro dall'altro lato mi rendo conto che non è tutto perfetto nel senso che comunque il media di gioco di ruolo probabilmente vuole essere vissuto e chi lo conosce forse riesce ad apprezzare chi lo conosce di più riesce ad apprezzare di più certi dettagli da esterno comunque mi sta appassionando per una storia per una narrazione davvero ben riuscita quindi si è secondo me riusciti a coniugare un pochettino il tutto quindi meno combattimenti ci sono più preferisco però capisco che un combattimento ogni tanto magari contro qualcosa di un po' più oltretutto non posso neanche dire di un po' più temibile perché anche in questo caso i nemici per quanto siano un pochettino base sono una minaccia comunque risultano esserlo una minaccia e l'altra cosa che ho notato nel corso di questa stagione è che è tutto forse un po' accelerato avevo forse già avuto modo di dirlo in passato ma la prima stagione copriva nei fatti l'arco narrativo di una giornata una giornata raccontata in nove episodi con l'ultimo che raccontava un po' la fine della notte e l'inizio del giorno dopo in quello che abbiamo visto già finora in ok sì siamo al sesto episodio ma è già passato un giorno e mezzo si è velocizzato tutto forse un po' troppo che sì mi lamento del fatto che ci sono dei momenti morti poi mi lamento perché c'è troppa velocità intendiamoci ci sono dei momenti morti ci sono stati pochi secondo me all'interno di questa seconda stagione dei momenti poco interessanti perché finora non abbiamo visto effettivamente le conseguenze o che cosa si è effettivamente scoperto in quei momenti morti quindi ok risultano poco avvincenti poco non lo so non voglio dire qualcosa di sbagliato fondamentalmente però non mi hanno convinto al 100% però il tutto sembra come se ci debbano invastire di informazioni su informazioni a volte senza neanche darci il tempo di assimilarle appieno per passare poi a darci altre informazioni questa cosa qui l'ho avverdita molto in alcuni episodi quali potevano essere per l'appunto i primi due episodi di questa seconda stagione quali potevano essere il quinto episodio di questa stagione mentre negli altri è risultato tutto un po equilibrato un pochettino più equilibrato loro risultato però rimane il mio episodio preferito finora finora il terzo il terzo episodio per ora è quello che mi è piaciuto di più non tanto nella prima parte come vi ho detto ma nella seconda parte di quell'episodio è stato il momento in cui ho provato più forti emozioni in cui mi sono sentito veramente immerso in quelle situazioni e nel quale mi sarebbe piaciuto essere lì effettivamente vivere con loro quei momenti e questo è un po tutto quello che avevo da dire per questo episodio non lo specifico detto questo qui da francesco il fanco pop qui alle mie spalle dalla soffitta di camera meno più soffitti tutto io penso che pian pianino sono sceso sempre di più all'interno della mia sedia e questo è un pochettino quanto voglio da dire spero di no anzi vi incontrerò sicuramente tutti quanti a Luca gli farò i miei complimenti dal vivo perché comunque al di là di quelle che queste mie perplessità mie criticità tutto quanto mi sta piacendo non seguirei e non farei probabilmente quello che sto facendo per qualcosa che non mi piace ok mi sta piacendo mi sta piacendo tanto se no chi me lo fa fare di trattare di questa cosa sul mio canale in maniera totalmente gratuita tra l'altro lo sto facendo perché mi piace perché mi piacerebbe magari discuterne con altri probabilmente se come posso avere vinto molto probabilmente questa seconda stagione potrebbe avere 12-13 episodi ci rivediamo alla fine di questa stagione così facciamo un attimo una summa degli altri episodi che usciranno e poi magari tra la seconda e la terza stagione riguardando questi episodi avrò modo di fare un video teoria come quello delle origini di Luxastra non è una promessa però c'è comunque la volontà di farlo se a voi spettatori piace l'idea e se vogliamo continuare insieme questo viaggio qui da Francesco è davvero tutto e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale ciao